Una corsa al mare non è un modo di dire per Roberto Cripa, 56 anni, ultramaratoneta, che sta per superare il suo record e correre per 200 chilometri da Lecco fino al Mar Ligure. Quanto ci impiegherà? Sono due giorni e due notti di corsa, difficile dire quante ore perché dipende da troppi fattori. Spero di arrivare nel corso della giornata di domenica, insomma. Quali sono le criticità che incontrerà nel percorso? La lunghezza sicuramente perché sono 36 chilometri oltre il mio record personale. Speriamo di riuscirci. Perciò la lunghezza sicuramente, le ore di movimento, impegno fisico e poi ostacoli geografici come quello delle montagne e degli appennini Liguri che arriveranno nella parte finale in cui si è molto più stanchi. E poi si dovrà riuscire a dormire e mangiare? Come funziona? Mangiare speriamo di riuscire a mangiare il più possibile, spero. Dormire, ascolterò un po' il corpo. Dico ascolteremo perché mio figlio e i miei figli mi assisteranno, mi affiancheranno in bicicletta in questa avventura, in questa lunga avventura. Una lunga avventura che ha richiesto anche una lunga preparazione. Quanto tempo e in che modo sei preparato? Un anno, un anno d'allenamento dall'ultima corsa, gara, in Germania la 100 miglia di 164 km, poi un paio di mesi di recupero e quindi 10 mesi di preparazione per 4-5 giorni alla settimana per 10 mesi. Che cosa porta un atleta a spingersi al limite? La sfida con se stessi, la bellezza del cercare di andare oltre i propri limiti, ogni volta costituisce una grande motivazione, almeno per me, ma per molti. Grazie. Grazie.